Mi sono fatto subito cattivo, mi sono messo lì davanti, ho cercato di forzare il ritmo cercando di staccare i diretti avversari. Abbiamo iniziato un po' più veloce per essere in gruppo di leader, con tutti gli italiani. Ovviamente è stato sempre difficile dal principio, ma potremmo controllare un po' un po'. Poi Robert attacca un po' un po' e Werner continua con me e Robert. Non si staccavano, sono stati versati sulle mie code e mi hanno curato. Nel medio del ultimo clima, Werner ha detto che è il momento e abbiamo attaccato insieme. Mi hanno forzato sull'ultimo pezzo di gara, gli ultimi 100 metri di dislivello, mi sono scappati via, a me è mancata un po' di cattiveria. Abbiamo fatto 10 metri e poi è sufficiente di finire in fronte. A fine del rinco, abbiamo iniziato ad attaccare e possiamo farlo insieme. Ma non possiamo finire insieme in una World Cup, quindi ho detto a Werner di andare per il rinco. E' stato un po' più forte che noi, quindi è stato il gioco. E' fantastico di vincere e, ovviamente, come squadra, è ancora più bravo. Bene, bene. Sono partita piano, cioè piano, sono partita e comunque non ero sicuramente in prima linea, ero abbastanza dietro. Piano piano, finita la stradina tornanti, sono arrivata lì, più o meno terza, quarta posizione. E' stato molto felice di poter guidare tutto il rinco fino a finire. Vicky Krauser è sempre super forte in verticale, quindi per me sia un secondo, è perfetto. Ho provato a vedere se riusciva a tornare sotto a Claudia, però non ce l'ho fatta. E' la mia seconda vittoria in una World Cup e sono davvero molto felice. Grazie a tutti.